ho paura di questo mostro io non esco e io stanno dicendo che è pericoloso uscire io non esco anche io hanno chiuso tutte le scuole per stare a casa io non esco anch'io faccio fatica non vedere i miei amici ma voglio resistere io non esco anche io è la prima volta che una grande responsabilità quindi io non esco anche io voglio dare un esempio alla mia famiglia stiamo a casa io non esco anche io mi sono fermata per proteggere più deboli io non esco anche io prima riusciamo e primo siamo io non esco anche io anche io non vogliamo resistiamo io non esco anche io la nostra è l'età più a rischio io non esco anch'io se volate voi io avrò perso la mia battaglia io non esco io ho già dato tutto adesso tocca a voi non uscite e dai che ce la faremo